Questa mattina a partire dalle ore 9 ha avuto inizio la consegna delle borracce presso la scuola primaria Santo Stefano in presenza degli assessori del comune di Lecco all'ambiente Alessio Dossi e all'istruzione Clara Fusi. Presenti anche il consigliere del CDA di Silea Alessandro Ghioni e la responsabile della comunicazione di Silea Chiara Benatti. La distribuzione è proseguita successivamente presso la scuola secondaria di primo grado Stoppani e le scuole Petroscola e Colbe mentre alle 10.45 è stata la volta dell'istituto Maria Osiliatrice e del collegio Volta. Infine alle 11.30 la scuola di secondo grado Don Giti Cozzi. Assessore Dossi e Assessore Fusi siamo alla scuola elementare del quartiere Santo Stefano consegna delle borracce inizia da qui un cambiamento per la città di Lecco. Sì beh è un messaggio importante credo da un punto di vista educativo per i ragazzi sono borracce in un materiale riutilizzabile che viene a loro distribuito perché possono evitare di utilizzare bottigliette di plastica se calcoliamo che ci sono quasi 4.000 studenti a Lecco da parte del comune e li moltiplichiamo per i giorni stiamo parlando di un numero sopra il milione di bottigliette che ogni anno vengono utilizzate se mediamente ne utilizziamo una al giorno quindi l'impatto ambientale è moltissimo speriamo con questo gesto di aver dato una punta di sensibilizzazione in più che può aiutare anche loro a crescere con attenzione specifica al loro territorio al loro ambiente. Grazie. Assessore Fusi, Assessore all'istruzione cosa vuol dire dare queste borracce a questi bimbi? Idealmente vuol dire affidare anche a loro la terra perché la tutela dell'ambiente è in mano a ciascuno di noi dai più piccoli ai più grandi e anche i bambini possono fare la loro parte per esempio utilizzando delle borracce non di materiale plastico per non far produrre la plastica perché poi questa è la finalità e imparare ad avere un uso consapevole delle cose nel nostro intento di azione verso le scuole questo è uno dei punti cardine. I bambini sembrano recepire l'importanza dell'ambiente? Sì, istintivamente sono molto propensi a questa cosa cerchiamo di aiutarli a non perderla nel corso degli anni questa è la cosa che possiamo fare. Grazie. Grazie a lei. Grazie a tutti.